Musica Anno giudiziario, in trocaso, siamo sereni. Gerardis, nonostante i limiti, continua la lotta. Nell'introduzione il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro ha citato le vicende giudiziarie che hanno interessato alcuni magistrati del distretto. Il presidente della Corte d'Appello di Reggio, nella sua relazione, ha sottolineato invece le lungaggini che rallentano i lavori di completamento della nuova sede. Zingaretti lunedì in Calabria, la Santelli alle prese con il nodo giunta. Settimana cruciale per le sorti politiche della nostra regione. Il leader dem torna per definire i punti futuri dopo i numeri positivi del PD alle ultime regionali. La Santelli impegnata da accontentare Lega. Niente più fondi. Stop alla collaborazione tra ARN e il Centro Regionale di Neurogenetica. Dopo vent'anni termina l'accordo tra la Onlus e il centro diretto dall'Aspi di Catanzaro. Da mesi non arrivano più soldi dalla regione, con l'ARN costretta ad inviare le prime lettere di licenziamento che scatteranno dal primo marzo. Psicosi coronavirus, parla il DG Belcastro, massima allerta, no all'allarmismo. Stato d'emergenza in Italia per sei mesi, ma intanto il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute spiega In Calabria la situazione è sotto controllo. Stiamo seguendo tutti i protocolli e le indicazioni del Ministero. Ben ritrovati con una nuova edizione dell'altro Corriere TG. Come sempre un saluto da parte della nostra redazione. Lo avete sentito dai titoli del sommario. Apertura di oggi dedicata all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario sia a Catanzaro e a Reggio Calabria con i due presidenti, in trocaso Gerardis, che sono stati perentori a indicare ovviamente quelle che sono le criticità e quello che non va in particolare a Catanzaro, sottolineando le ultime vicende che hanno riguardato alcuni elementi, alcuni magistrati del territorio e anche a Reggio Calabria impegnata sempre duramente nella lotta all'andrangheta nonostante il personale sia ormai ridotto all'osso. Ma sentiamo. Conferma serenità e fiducia assoluta nell'operato degli inquirenti, abbiamo vissuto il vulnus indelebile inferto alla comunità giudiziaria derivato dai provvedimenti giuristizionali e disciplinari riguardanti magistrati del distretto, titolari di incarichi di grande responsabilità. Il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, ha iniziato la sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, partendo dalle indagini che hanno coinvolto alcune toghe. Indagini penali e provvedimenti interni alla magistratura che hanno portato al trasferimento di sede di funzioni del procuratore generale Otello Lupacchini, del procuratore di Castrovillare Eugenio Facciolla, del procuratore aggiunto Vincenzo Luberto e all'arresto del presidente di sezione, Marco Petrini. Introcaso ha sottolineato poi l'esigenza di recuperare la storica immagine della magistratura. Mancano i magistrati, manca il personale, mancano le risorse necessarie per contrastare adeguatamente la criminalità organizzata. A Reggio Calabria, invece, l'anno giudiziario si è aperto con la relazione del presidente della Corte d'Appello, Luciano Gerardis. Il magistrato si è detto rammaricato per l'impossibilità di utilizzare la sede a seguito delle difficoltà in sorte, tra l'amministrazione comunale e l'impresa giudicataria dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia. Poi si è soffermato sui problemi nella lotta all'andrangheta. Il biglietto da visita che presentiamo all'esterno è quello non della città bella e gentile che vorremmo, ma di una società profondamente deturpata dalla presenza andranghetista. Le bellezze naturali, secondo Gerardis, non compensano in alcun modo un ambiente opaco che, malgrado tutti gli sforzi, non riesce a liberarsi del cancro mafioso. Durante la relazione il magistrato ha accusato un malore, si è accasciato al suolo ed è stato immediatamente soccorso. Ha raggiunto l'ospedale per sottoporsi a controlli. Le condizioni di salute non destano, fortunatamente preoccupazione. A proposito di lotta alla criminalità e lotta all'andrangheta dal procuratore capo di Reggio Calabria, Bombardieri, arriva un'importante proposta. Sentiamo. L'attacco globale all'andrangheta con il prezioso ausilio dell'Interpol è una task force per risolvere i cold case legati alla mala calabrese. Reggio Calabria diventa capitale della lotta al crimine e in una settimana sono importanti le novità annunciate in merito al contrasto del fenomeno mafioso. Dopo il blitz che ha portato all'arresto di elementi di spicco del clan Labbate, l'arrivo del numero uno dell'Interpol, John Stock, ha rilanciato nella città dello Stretto l'azione delle forze dell'ordine impegnate quotidianamente sul territorio. Ultima in ordine di tempo la proposta lanciata dal procuratore capo di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri che al termine della conferenza stampa sui dettagli dell'indagine che ha portato all'arresto di Vincenzo Zappia per l'omicidio di Giuseppe Cartisano ha parlato di una task force dedicata ai crimini risolti. Le nuove tecniche scientifiche, secondo il procuratore, possono portare alla soluzione di casi di omicidio o altri gravi delitti rimasti risolti attraverso il riesame di reperti genetici all'epoca dei fatti inutilizzabili con le vecchie tecnologie. È per questo che il procuratore ha proposto alle forze di polizia della città di creare una squadra che riesamini tutti i vecchi delitti per i quali è ancora possibile analizzare tracce ematiche impronte o altre prove repertate a suo tempo impiegando tecnologie che prima non erano disponibili. Spazio ancora alla cronaca, una sparatoria si è consumata ieri sera nel centro storico a Corigliano Rossano. La vittima disegnata ha riuscito a darsi alla fuga e un uomo di 37 anni, Domenico Russo, considerato tra l'altro vicino ad ambienti della criminalità organizzata locale. Russo nel momento dell'agguato si trovava alla guida della sua automobile su cui viaggiava comunque da solo. Una persona che si è data alla fuga gli avrebbe sparato alcuni colpi di pistola che hanno oltrepassato il parabrezza raggiungendo l'uomo in varie parti del corpo. Russo è stato poi ricoverato in ospedale, le condizioni sono gravi ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul tentato omicidio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corigliano Rossano. Noi lasciamo da parte la cronaca, ci occupiamo adesso di politica, non potremmo fare altrimenti dopo l'elezione del nuovo presidente della regione Calabria, Iole Santelli, continua ancora il rebus attorno ai nomi della nuova giunta. La prossima settimana potrebbe già essere importante. Lunedì a Catanzaro arriverà il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti e sarà l'occasione per un confronto sul partito che il leader intende rifondare e allargare anche al contributo di sardine ambientalisti. Nel nuovo soggetto politico dovranno trovare spazio frammenti importanti della società civile finora rimasti distanti dall'universo democratico. Passi in avanti sono stati compiuti con la candidatura alla presidenza della regione di Pippo Callipo e con l'avvicinamento di personalità come gli imprenditori Antonino De Masi e Gaetano Saffioti ed è proprio da questo nucleo che Zingaretti vuole ripartire per allargare gli orizzonti dello schieramento progressista calabrese. È probabile che il PD chieda allo stesso Callipo di guidare l'opposizione in Consiglio regionale e dar vita ad un fronte comune che metta insieme tutte le anime del centro-sinistra evitando le disastrose fratture del passato. Sul fronte del centro-destra, affari accessi su Catanzaro dove il sindaco Sergio Abramo ha zerato la giunta, la governatrice Iole Santelli sta ricevendo decine di richieste in queste ore, tutte con la stessa finalità ottenere un posto in giunta. I posti a disposizione sono soltanto sette, due dei quali dovranno essere riservati alla rappresentanza di genere. Lega e Fratelli d'Italia rivendicano le cariche più rilevanti, vicepresidenza dell'esecutivo e presidenza del Consiglio regionale, ma a scalpitare sono pure gli azzurri di Forza Italia ed altri partiti come l'Udc, senza contare poi l'apporto in termini di voti di chi è rimasto fuori. È il caso di Pino Gentile, Giuseppe Mattiani e Francesco Denisi. Difficilmente però gli esclusi al primo giro saranno ripescati nella nuova giunta. Intanto Carlo Tanzi annuncia ricorso contro la legge elettorale, nel mirino la mancata previsione della parità di genere e l'alta soglia di sbarramento, fissata all'8% per le coalizioni. A proposito di politica andiamo adesso alla mezzia terme perché questa mattina è stata organizzata un'importante conferenza stampa da parte della ARN Onlus, una onlus che è impegnata nella collaborazione nel centro di neurogeretica regionale proprio alla mezzia terme. Ebbene, da qualche mese mancano i fondi regionali per questa onlus che si è trovata costretto dopo aver anticipato diverse mensilità ai propri dipendenti, circa 10, si è trovata costretta, dicevamo, ad inviare le prime lettere di preavviso di licenziamento e dal primo marzo saranno effettivi. Ovviamente c'è un mese di tempo, la speranza è quella di scongiurare appunto questi licenziamenti che getterebbero in una crisi profonda. Il centro regionale che sappiamo è un'eccellenza del territorio della nostra regione ormai da diversi decenni ma continuamente in crisi. Una collaborazione ventennale basata sulla ricerca e il supporto di uno dei centri di eccellenza più importanti non solo in Calabria ma in tutto il paese, quello tra la ARN Onlus e il centro regionale di neurogenetica con sede alla mezzia terme è l'esempio lampante di quanto la sinergia tra pubblico e privato specie in campo scientifico possa produrre ottimi risultati. Tanti infatti successi raccolti in questi anni eppure insufficienti per ottenere quel riconoscimento doveroso da parte delle istituzioni regionali. Si tradotto, non arrivano più i fondi necessari per mantenere in piedi la collaborazione con il conseguente ed inevitabile taglio del personale della ARN a partire dal 1 marzo 2020. Il tutto nonostante ci sia una legge regionale, la numero 9 del 2007, che impone alla Regione Calabria lo stanziamento di 500.000 euro di fondo stabile annuale. Dal 2018 sono iniziati però i primi intoppi e da oltre sei mesi non arrivano più i rimborsi, mandando in crisi la Onlus che non si è più vista riconoscere le spese sostenute e anticipate. Gli appelli alle istituzioni regionali e nazionali, l'interesse del segretario del PD Nicola Zingaretti e la lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono stati sufficienti. Tutti i passi mossi nelle giuste direzioni ma con risultati fin qui insufficienti. Partire con delle lettere di licenziamento in sé è già un grossissimo problema enorme e che purtroppo comunque siamo arrivati a questo punto. Il fatto di aver dovuto anticipare comunque delle importanti somme da parte di un'associazione come la nostra, che non ha alcun finanziamento pubblico, perché questi soldi che richiediamo sono esclusivamente al rimborso. Dal primo marzo dunque la ricerca non sarà più il fiore all'occhiello del centro regionale e si può dire addio a questa straordinaria collaborazione tra pubblico e privato in campo sanitario. Non appena abbiamo saputo abbiamo cercato il più presto possibile di trovare una soluzione perché lasciare un ammalato da sola a casa è impossibile. Loro lo sanno, voi non tutti lo sapete ma credetemi è difficilissimo. Quindi abbiamo dovuto fare un giro di telefonate per poter qualcuna, purtroppo pochissime, veramente per la pochezza del tempo poter partecipare qui e rappresentare la nostra vicinanza a tutti voi, tutti, la dottoressa Bruna a finire a tutti quanti. È importantissima la ricerca. Forse non vi rendete conto ma per noi che già ci siamo dentro, togliere un fiore all'occhiello così è tagliarci le gambe. A proposito di salute, di sanità, in queste ore, in questi giorni è salito anche in Italia l'allarme attorno al coronavirus che si è diffuso come sapete in Cina che ha già provocato diverse centinaia di morti oltre che diverse migliaia di contagi. In Italia da ieri è attiva la situazione di emergenza per i prossimi sei mesi ma intanto anche la nostra regione, anche la regione Calabria si era già mossa in questi giorni. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente il Belcastro, il dirigente della sanità della nostra regione che ci ha spiegato di fatto come appunto la Calabria si sia mossa, quali accorgimenti ha previsto e sono stati previsti e soprattutto ci ha tenuto a specificare. È bene stare attenti ma non creiamo assolutamente allarmismo. Sentiamo. Tra psicosi ed emergenza di sanità pubblica internazionale, cresce l'attenzione attorno al nuovo coronavirus associato ad un focolaio di casi di polmonite registrati a Huan in Cina da oltre un mese e che ha provocato già più di 200 decessi e quasi 10.000 casi confermati. E intanto in Italia il governo Conte insieme al ministro della Salute e Speranza ha dichiarato lo stato d'emergenza per i prossimi sei mesi. Ma a darsi da fare è stata anche la Calabria con le istituzioni regionali che hanno mosso i primi passi seguendo le linee guida del ministero. Nella nostra regione la tensione infatti è altissima soprattutto dopo il caso sospetto verificatosi a Reggio Calabria. Antonio Belcastro, direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute, ha spiegato ai nostri microfoni la strategia adottata. Massima allerta, minimo allarmismo, evitare di procurare allarmo, però di stare molto molto attenti. Noi dall'inizio, noi l'Italia e quindi anche le regioni non abbiamo sottovalutato il problema. Quando ci facevano anche l'OMS all'inizio, solo ieri ha dichiarato elevato il grado di emergenza. Il ministero ha istituito un numero verde che è il 1500 al quale qualsiasi cittadino, qualsiasi persona che si trova in Italia in questo momento può telefonare. E loro fanno un primo filtro. Se pensano che ci possa essere qualche problema, che una di queste telefonate potesse essere un sospetto o un caso, lo indirizzano ad un numero unico della regione da cui proviene la chiamata. Abbiamo indirizzato l'unità operativa di malattie infettive del Pugliese, perché è baricentrica. Un piano ben definito dunque con Belcastro, che si mostra sicuro. Allo Stato bisogna stare molto attenti, non sottovalutare, ma manco creare allarme. Da noi non c'è. In Calabria in particolare la cittadina è sotto controllo perché stiamo seguendo i protocolli e stiamo sempre a quello che dice il ministero. Continua, a proposito di sanità, la collaborazione tra i comuni di Renda e Montalto Fugo. Una collaborazione che prevede anche, almeno queste nelle loro intenzioni, la realizzazione del prossimo ospedale che dovrà sorgere nell'area dell'Interland, del Cosentino. Un accordo per programmare insieme una serie di iniziative tra Montalto Fugo e Rende. Tra i progetti in cantiere, l'ubicazione del prossimo ospedale che dovrà sorgere nell'area dell'Interland, del Cosentino. I sindaci di Rende e Montalto, Marcello Manna e Pietro Caracciolo, hanno siglato il protocollo d'intesa all'interno del municipio rendese. Durante l'incontro si è discusso dello sviluppo dell'area urbana di PSC, di tutte le opere in itinere e di altre da programmare. La regione, secondo il primo cittadino montaltese, non può sottrarsi dal prendere in esame l'area universitaria a cavallo tra i due comuni per l'ubicazione del nuovo nosocomio. Le condizioni urbanistiche ed infrastrutturali per farlo ci sono, secondo Caracciolo, che promette di battersi per ottenere l'ok per la realizzazione. Bisogna anche accendere l'attenzione su quella che sarà la futura collocazione dell'ospedale. Noi riteniamo che possa essere strategicamente posta a ridosso dei nostri territori. Noi ci proponiamo, tra le altre cose nella prossima settimana con il sindaco Manna ci vedremo, anche perché siamo in fase di evoluzione nella progettazione dei nuovi PSC e cercheremo in qualche modo di dare una certa organicità ai nostri territori che sono contigui. A scusura del nostro OTG ci occupiamo di due notizie che riguardano l'enogastronomia e i nostri prodotti locali. Iniziamo dalla Mezze, dalle cantine stati, dove c'è stata un'importante serata dedicata alla degustazione del vino spumantizzato con la Federazione Italiana Sommelier. Magna Grecia, metodo classico, è il nome scelto per l'iniziativa organizzata dalla FIS, la Federazione Italiana Sommelier, che ogni anno nell'azienda Statti e alla Mezzia Terme organizza un confronto seguito da degustazione dedicato all'analisi della realtà attuale, delle prospettive per quello che possiamo definire ormai come un vero e proprio fenomeno. Parliamo delle bollicine di quel vino spumantizzato che registra straordinarie performance di mercato anche grazie ad un percorso ormai saldamente incentrato sulla ricerca della qualità. Sotto l'aspetto qualitativo i produttori, oltre nelle zone evocate, che penso, non so, il Trento, la Franciacorta, l'Otrepoppavese, l'Alta Langa, c'è un grande interesse per tutto quello che è il metodo classico fuori dalle zone evocate. Quindi penso a quello che accade in Puglia, in Sicilia e appunto anche in Calabria, dove si iniziano a produrre con risultati molto interessanti delle bollicine da metodo classico da vitigni autotoni. In Italia si producono poco meno di 700 milioni di bottiglie. Il consumo delle famiglie italiane raggiunge i quasi 200 milioni di bottiglie con una plusvalenza in positivo dovuta all'export, il cui valore è di 750 milioni di euro. Penso che in futuro il consumo di bollicine, anche se non sono tradizionali, ma prodotte anche, questo è un fenomeno che sta crescendo, metodi classici ottenuti, o Charmant ottenuti da regioni che non sono tipicamente produttrici storiche di metodi classici o di Charmant. In questa prospettiva di crescita anche la Calabria inizia a giocare un proprio ruolo e lo fa con quella sperimentazione che sorprende nella misura in cui, alle nostre latitudini, la spumantizzazione riguarda vitigni autotoni particolarmente apprezzati. È ovvio che avvicinarsi a livello qualitativo c'è ancora molta strada da fare, perché non è facile preparare prima un vino base e poi spumantizzare come si deve, ottenere un po' tutti quelli che sono, soprattutto i terziari, con la maturazione sui lieviti, eccetera. Però devo dire che se uno approccia invece con l'occhio della novità di una nuova combinazione, appunto vitigno-territorio, secondo me scopre un mondo nuovo e che si abbandona un po' dei parametri standardizzati, probabilmente si diverte. Ed era di fatto la notizia delle ultime ore, una grande notizia per la nostra regione, ovvero la Ferrero, l'azienda leader nel settore dell'agroalimentare e dei prodotti dolciari, ha scelto le nostre nocciole, le nocciole della Calabria, per la produzione della nota crema spalmabile, famosa, non solo in Italia ma in tutto il mondo. A circa un anno dal lancio del progetto Nocciola Italia, promosso dal gruppo Ferrero, è stato siglato il primo contratto di filiera della Calabria. L'accordo sancisce l'avvio di una collaborazione con l'obiettivo di raggiungere entro il 2023 una superficie di 500 ettari di nuove piantagioni sul territorio regionale. Il progetto si articola su alcuni principi cardine, garantire ai produttori, in un'ottica di lungo periodo, un impegno all'acquisto della materia prima, la nocciola, mettere a disposizione strumenti tecnologici per la gestione integrata e moderna delle piantagioni, l'impegno nel creare una nuova filiera corilicola italiana, seguendo i principi della tracciabilità e sostenibilità delle produzioni, garantire inoltre al gruppo Ferrero il supporto di importanti istituti di ricerca in analisi pedoclimatiche per facilitare l'individuazione di aree idone alla coltivazione del nocciolo. A breve, nei barattori della famosa crema alla nocciola, troveremo prodotti rigorosamente made in Calabria. Bene, il nostro OTG termina qui con questa ultima notizia, vi ricordo i prossimi appuntamenti nel corso della giornata, vi invito ovviamente a seguire la programmazione dell'altro Corriere TV. Grazie a tutti!